Intex ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.6 su un totale di 10 punti. Lo valutiamo come la scelta migliore. I punti di forza sono. Leggero. Ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Aquatics Pro è di 7.8 su 10. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Comodo. Leggero. Ottimo rapporto qualità prezzo. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Inkbird ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.6 su 10. online. Risulta essere il più venduto. Si rivela una soluzione più che buona dalle ottime prestazioni e, come testimoniano le recensioni, risulta essere molto apprezzato dagli utenti che lo hanno già acquistato. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Questo articolo di Ecovit ha riscontrato una valutazione di 9.6 su 10 totali. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Si tratta di un modello di pregevole fattura con un rapporto qualità prezzo elevatissimo ed è molto apprezzato dagli utenti. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo. Clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video.